e siamo giunti al clou di questo pomeriggio veramente molto interessante e anche molto qualitativo. Miglio per Vagabondo, Vittorio P, Manvitelli, Violetto Jet, Vasco Danny Griff, Varietà Lewis e Victory Wind. Chiaramente sono quattro anni. Arretrato Victory Wind che non partecipa al lancio e anche Vagabondo che poi galoppa. Via la macchina. Si lotta con Varietà Lewis a largo di tutti che scende lungo i birilli su Vasco Danny Griff e va al comando. E così l'allievo di Goccia d'Oro, leader. 13 e 2 a partire al completamento della piegata, il figlio di Griffan Baby e ideale Lewis completa il quarto iniziale nell'ordine del 28 spaccato. Varietà? Poi Vasco Danny Griff, Vittoria OP e gli altri. 600 in 42,4 da 1,17 e cavali che affrontano la penultima curva. Non ci sono variazioni sostanziali, si completa il mezzo miglio iniziale in 57,4 frazioni in 14,8. Cavali di fronte, penultimo rettilineo, si va a rifinire e gettonare il chilometro nell'ordine dell'1,12 frazioni in 14,3. 500 alla meta, varietà sempre a comandare d'Operation. Perde qualche battuta Vasco Danny Griff ci affaccia a vittoria. 1,26 tre quarti di miglia, lunga varietà, Vasco Danny Griff si elimina. Signori, siamo al teatro, c'è un gran varietà stasera, tutta al varietà per vedere questo ideale Lewis e Griffin Baby che fa un vero numero da campione che era stato annunciato e oggi lo rivediamo veramente alla grande, mentre Vittorio P si salva da Violetto. Attenzione, 1,54, 1,11,3, il giallo per Antonomasia, la giubba gialla, The Japanese, Alex Gocciadoro, giusto? la pacca, la mano sulla coda e sulla pacca di un ritrovato varietà. Stasera siete tutti invitati a questo gran varietà targato Lewis, il figlio di Ideale Lewis. Festeggiamenti dopo il varietà. Grazie a tutti.